È la giornata nazionale dello sport, contestualmente ai 100 anni del CONI, quindi una celebrazione importante con varie attività sportive che verranno svolte sul territorio o su tutti i territori provinciali, per cui davvero sarà una giornata commemorativa, significativa per far capire quelli che sono davvero i reali valori dello sport, quindi sport legato alla cultura, sport legato all'integrazione e sport legato al sociale. Quindi l'invito è quello di partecipare attivamente e fattivamente alle varie manifestazioni che si svolgeranno nelle varie città toscane.